Buon day, benvenuti in questo nuovo video, lasciate già un bel mi piace, oggi sono con mia sorella e mio papà Ciao Ciao Ah, cosa faremo oggi? Reagiremo ai messaggi privati che arrivano a mia sorella in direct, io e mio padre Così vediamo se troveremo un pochino a scalzone che rompe le scatole a mia sorella, così lo sgammeremo Mi raccomando lasciate un mi piace, commentate con hashtag Che hashtag mettiamo? Che hashtag mettiamo? Tonno 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 Mi raccomando in descrizione trovate il link che vi riporta al sito per acquistare magliette, cappellini, top per ragazze, felpe, del merchandising, petacolo Ora iniziamo il video, eccoci qua Apriamo Instagram, mi raccomando un bel mi piace, questi sono gli occhiali scovati, ma scalzoni Ah, vinci 40, guarda cosa scrive questo qua, vinci 40, ciao amore Subito proprio l'abbiamo chiamato uno Questo qua è formelato proprio Ho bisogno di vederti 40 anni Fammi la foto Occhio Vincenzo perché ti teniamo d'occhio Davide, Davide, ho visto un Davide Ah, ehi ciao, volevo conoscerti, sono un lama Che? Sono capito Ehi ciao, volevo conoscerti, sono un lama Questa è una tecnica per cercare di rimorciare Martino Allora, hai partito Oma, 25 anni Mimo c'ha questo qua E cos'è che ti ha scritto, quanti anni hai? Mi ha salato, c'hanno anche 15 anni, compie tra poco Quindi sai che ce n'hai Mimo 25 Stai a posto tuo, poi Davide Davide, abbiamo Davide Ehi, basta Ma questo qua è tranquillo Sto scopando È nervoso, è nervoso Mami Hai inviato una foto, attenzione Attenzione che Mami qua mi ha mandato una foto Guarda la tua Hai guardato qua, ma hai guardato qua Eh no, ti hai consentito Ma hai guardato qua Cosa ha inviato? Eh non lo so, è tipo la storia Cosa hai inviato? Hai inviato, c'ho Martina colchè Con i miei occhiali Con i miei occhiali Sono io con i miei occhiali Adesso sono british Chi è? Igor Igor Ah, io con i maschi, ok Eh beh Sono bene Ehi mamma Ce l'hai dei corteggiatori? Comunque è fidanzata Martina Con me Ah sì Io me l'hanno anche chiesto se mi spiega C'è questa mia sorella Fanno aprire una coppa Se lo apro io dopo andiamo nelle case Apri a casa Apri a casa Vai Paz corri Cami Ehi Vabbè lui è tranquillo Ok Ma quale cavine è? Non lo so quale cavine è Quale cavine è Martina? Non lo conosco Non lo conosciamo Vuoi vedere un po'? Sarabetta che culo hai? Ricky, Ricky Ciao possiamo parlare? No Non possiamo parlare Ho scritto a Martina Ciao amore Amore a chi? Perché? Guarda che ho fatto delle piccole e pesole grandi Gianni Gianni Si camuffano Eh Mi sono detto si camuffano Non è che si camuffano Ma mettono le foto da piccolini Ma non lo so Gianni Gianni Ehi 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 Non si dà per vinto lui Guarda quanti messaggi devi scrivere Eh Vabbè Questo è di rispondigli Rispondigli Dici avrai 40 anni Si può che questo qua ci avrà 40 anni e manda i cuoricini a mia sorella Vai Buttalo No Buffon cane Sarai bocciata a troia di merda Che è questo? Buffon cane Rispondigli Guardate la tua parola Io c'ho la fotografia di un cane Papà sta iniziando a incazzarsi Vai va Ok Devo dire che sei molto bello Danilo 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 Non si sa Non si sa che faccia questo qua Vabbè però dal fotoprofilo sono tutti grandi Io è 93 Ciao Di dove sei? 93 scusa quanti anni c'ha? Guarda tu Guarda tu 4 24 anni Guarda che Guarda vedi che sono tutte Cioè non devo consentire al documento Queste qua le blocchiamo tutti Questo c'ha 24 anni Ciao Vorrei conoscerti Se vuoi E' del 94 Del 94 Fai le mani ad esempio va E dove va? 91 91 c'ha? Ciao Marti ciao 91 c'ha 27 anni Cosa facciamo? Gli lo faccio cancellare questo? No Questo qua quello lì c'ha 40 anni c'ha Ehi mi chiamo Andrea Mi piaci molto Mi potresti dare il tuo numero? Quale l'altro? Trovo io il numero Dagli il mio Dagli il mio Dagli il mio Oh che pervertito Questo video termina qui Spero che siete divertiti Io no Io no Io anche Ho scoperto che mia sorella è ricercata dagli over dagli over 25 in su Allora voglio lanciare un avviso a tutti gli over 25 che scrive la mia sorella Io controllo i messaggi mia sorella come avete visto mio papà anche quindi state attenti Quello dei 40 anni e vattene a trovare una delle due età che non va bene quello che scrivi Quindi mi raccomando state attenti Mi raccomando tutte le ragazze che magari usano i social sono piccole magari hanno l'età di mia sorella sono addirittura più piccole Non non rispondete a questa gentaglia non se vedete che ha un'immagine profile vedete che è una persona molto grande non date di corda Perché possono essere sempre persone che non hanno buone intenzioni quindi può essere addirittura pericoloso E noi l'abbiamo trattato un po' sul divertente però in realtà quello che fanno non è molto bello Molto bello Quindi lasciate un bel mi piace e commentate con un hashtag over 25 E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao